Partiti! Pilot in vantaggio lungo la corda, al suo esterno sta avanzando gradatamente all'esterno Tubiga che ora si propone al comando davanti a Pilot, Brigia Rabrab al suo esterno, ancora più a largo Lady Chicca che lasciano in coda qualche lunghezza alba dorata. Posizioni pressoché invariate lungo la retta opposta con Tubiga leader, Pilot in seconda posizione con a largo Lady Chicca quindi segue Brigia Rabrab con in coda alba dorata, gruppetto ben riunito all'imbocco della curva di fondo sempre Tubiga leader nei confronti di Pilot con all'esterno Lady Chicca in quarta posizione segue Brigia Rabrab ed in coda alba dorata. Cavalli ora prossimi all'ingresso in retta di arrivo con in vantaggio Tubiga Lady Chicca si propone al suo inseguimento, dietro i due cerca spazio Pilot più all'esterno progredisce Brigia Rabrab con in schieda alba dorata. Tubiga sta allungando in retta d'arrivo nei confronti di Pilot e Lady Chicca che hanno all'esterno Brigia Rabrab che avanza bene a centro pista trascinandosi alle spalle alba dorata. Cala leggermente Pilot e anche Lady Chicca e su Tubiga interviene Brigia Rabrab con all'esterno alba dorata passa Brigia Rabrab nei confronti di alba dorata siamo nel tratto finale, Brigia Rabrab all'interno, alba dorata a largo nel finale di forza alba dorata prevale nei confronti di Brigia Rabrab, poi Tubiga e Pilot. Rivediamo ora le immagini finali con Samuele Diana che di forza negli ultimi metri è riuscito a passare nei confronti di Brigia Rabrab quindi 4-1-5 il probabile e ufficioso arrivo della terza corsa di Napoli. Grazie a tutti